Ho già incontrato De Luca una volta e lo vedrò di nuovo nei prossimi giorni. De Luca è una persona molto autorevole che darà una mano alla città. Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli per la coalizione composta da PD 5 Stelle e altri partiti di centro-sinistra, intervenuto a Radio CRC. Sottolineando che la collaborazione istituzionale con la regione e con il governo è la base per costruire la rinascita della città. L'incontro con De Luca servirà anche a chiarire il numero di liste che dovrebbero sostenere Manfredi. L'obiettivo è presentarne dieci, al massimo dodici. Quelle per il sindaco, le liste con i simboli dei partiti maggiori dell'Alleanza, PD e 5 Stelle. La sinistra andrà unita con Leo, articolo 1 e sinistra italiana e poi ci sono i partiti di centro e i De Lucchiani. Per il centrodestra Catello Maresca resta ancora nel limbo. È chiaramente lui il candidato, ma l'ufficialità ancora non arriva da Roma. L'ultimo vertice tra i big Salvini, Meloni e Tajani non ha risolto il nodo dei simboli. Forza Italia e Lega sono pronti ad una lista unica in appoggio del magistrato. Fratelli d'Italia, invece, è ferma sulla propria posizione. Siamo coerenti con il nostro modo di fare e con la nostra storia e noi non rinunceremo al nostro simbolo. Noi abbiamo presentato la candidatura dell'Avvocato Sergio Astrelli per chi rispecchia a pieno titolo una cultura che a Napoli ha sempre avuto pali di esponenti. Ora, se il centrodestra dovesse chiudere l'accordo su un altro nome, noi saremo le ali, lavoreremo per far vincere il centrodestra, però ribadiamo, categoricamente non abbiamo intenzione di rinunciare al nostro simbolo. Grazie.